Tamara, siamo arrivati nel nostro luogo, ma non il nostro luogo, è il luogo, il luogo di Valdambra Trail. Sì, migliali. Non so come dirlo, sinceramente, perché questo posto è magico per me, ma per tutti i cuori che sono la Gio a Badiannano. Ma soprattutto guardate un attimo voi e capirete cosa intendiamo dire. Passo dopo passo siamo quasi arrivati alle arrivi nel nostro piccolo paesino di Badiannano. Lì ci sarà grande festa per ognuno di loro. Abbiamo, attraverso questi video, ma ancora non è finita, abbiamo con questi video voluto accompagnarvi in tante piccole tappe, ma dal profondo significato, dove sport e cultura possono veramente abbracciarsi insieme e creare tutto questo splendore. E noi lo possiamo definire in unica parola, 1, 2, 3. Valdambra Trail!